buongiorno a tutti lezione numero 23 oggi parliamo della tecnica gridi che è la terza delle tecniche di programmazione che che stiamo discutendo ricordiamoci a cosa servono queste tecniche sono delle degli approcci alla risoluzione di problemi tramite algoritmi quindi di fronte a un problema che ci ritroviamo e del resto dopo ci sono tutta una serie di problemi che sono disponibili appunto per l'esame ovviamente non è solo per l'esame motivo per cui esistono queste queste tecniche dati dei problemi spesso la risoluzione di questi problemi passa attraverso una di queste tre tecniche questo non sto dicendo che tutti i problemi del mondo si risolvono con le tre tecniche che vediamo però sono i tre approcci più generali che più insomma battuti per risolvere problemi algoritmici abbiamo visto in la tecnica di bidet impera che partendo dal problema più grande si cerca di scomporre i problemi sempre più piccoli fino a risolverli e poi combinando le soluzioni abbiamo visto la tecnica di programmazione dinamica che invece è il duale della dividet impera cioè parte da dei problemi già scomposti piccoli di cui so trovare una soluzione e il difficile è come partire da queste soluzioni piccole per risolvere problemi più grandi nel momento in cui non ho una legge di scomposizione da ripercorrere all'indietro cosa che avevo nel dividet impera nella programmazione dinamica la difficoltà è proprio questa cioè ok problemi piccoli li ho individuati ma adesso come faccio a risalire mentre nel dividet impera la fase di risalita è automaticamente definita dalla fase di divisione bene queste sono le due tecniche che abbiamo visto c'è una terza tecnica che è quella che discutiamo oggi che è un po diciamo quando uno non sa fare più niente cioè una cosa abbassando un approccio abbastanza ignorante ok io non riesco né a scomporre il problema né a individuare dei problemi piccoli e che devo fare allora ok nella tecnica gridi si porre si può anche risolvi descrivere con una sola frase e sarebbe pienamente descrittiva di questo approccio e di trovare la soluzione migliore localmente cioè fare del proprio meglio per risolvere il problema che è un po una definizione che non significa niente però in realtà vediamo che proprio questo quello che tratta questa tecnica è una tecnica molto importante quindi sebbene sia banale da definire quindi file del tuo meglio compila scelta ottima localmente in realtà questa è una tecnica che si usa si usa per esempio nei problemi di ottimizzazione per esempio nel trovare i cammini più brevi tra due nodi di un grafo quindi problema del navigatore che tutti conosciamo più tanti altri problemi anche nell'intelligenza artificiale e anche nel deep learning che oggi insomma è un piccolissimo cenno ci sono quindi al di là del dire compi la migliore scelta localmente si potrebbe già isolire qui però dobbiamo comunque costruire un impianto un impianto schematico per lo schema di risoluzione così che magari uno c'è già lo schema e cerca di riempire le caselle vuote e quindi si forma l'algoritmo di tecnica gridi quindi a differenza delle tecniche di divide team per ai di promozione dinamica noi l'algoritmo già ce l'abbiamo stato qua davanti l'unico problema è dare un significato a ciascuno di questi ingredienti quindi l'algoritmo di massima cioè proprio lo schema algoritmico è questo ed è se poi adesso non andiamo a discutere fai la scelta migliore che puoi fare in quel momento messa però in termini logico informatici e soprattutto dato dati significati ai vari ingredienti di questa di questo algoritmo quindi diamo questi significati allora ingredienti lista della spesa servono un insieme di candidati e questo già ci fa capire che non tutti i problemi sono risolvibili con tecniche gridi perché se io devo ordinare un vettore qual è l'insieme dei candidati teoricamente l'insieme dei candidati sarebbe tutti i possibili scambi per nemmeno non è facile individuare in questo caso specifico insieme dei candidati quindi ci sono ovviamente dei problemi in cui già questo passo si può compiere altri problemi in cui non si può fare per esempio devo andare da roma a milano compiendo il percorso più breve qual è l'insieme dei candidati per esempio l'insieme dei candidati è l'insieme di tutte le strade che ci sono nella mappa che comprende la regione lazio che ho detto da roma a milano diciamo da roma napoli e la regione campania quindi tutte le strade che ci sono in questa cartina geografica questo è l'insieme dei candidati poi c'è l'insieme dei candidati già esaminati cioè durante lo svolgimento dell'algoritmo noi andiamo a esaminare uno ad uno questi candidati decidere se sono buoni se non sono buoni in base a quello che discuteremo e quindi abbiamo quelli già esaminati e quelli che dobbiamo ancora esaminare chiaramente quando tutti i candidati saranno stati esaminati gioco forza l'algoritmo dovrà terminare perché avrà già fatto tutto quello che doveva fare se c'è riuscito in maniera ottima bene altrimenti vedremo che l'algoritmo gradi potrebbe anche produrre una soluzione non ottima quindi divide timpera e programmazione dinamica vanno dritti alla soluzione ottima se sono stati ovviamente realizzati bene l'algoritmo gradi potrebbe potrebbe non portare all'ottimo però è quello che ci si accontenta quando l'ottimo non è possibile in tempi computazionalmente brevi anzi vi posso già dire che il problema che sembra banale di trovare la strada più breve tra roma e napoli se volessi davvero l'ottimo penso che ci vorrebbero ore se non giorni di computazione ovviamente non è quello che si può pretendere da un dispositivo montato sul veicolo oppure sullo smartphone pertanto si ci sia contento del suo ottimo poi serve una funzione ammissibile cos'è la funzione ammissibile beh abbiamo detto che ci sono dei candidati da esaminare bene la funzione ammissibile è la funzione che esamina il candidato ovvero verifica se uno o più candidati insieme sono ammissibili come una soluzione cioè se devo andare da roma a napoli passare passare che ne so dall'aquila è una soluzione beh sì è un po lunga però sì diciamo che è una soluzione perché si potrebbe andare da roma all'aquila poi dall'aquila napoli quindi la funzione ammissibile non verifica se è una buona soluzione verifica se l'insieme dei candidati è una soluzione cioè la strada che va da roma a napoli può passare per l'aquila sì esiste una strada che effettivamente passa per l'aquila ma può passare per new york beh no non c'è una strada che passa per new york e arriva a napoli quindi quella per esempio è un una risposta che la funzione dice no non è una funzione ammissibile non è possibile fare una cosa del genere quindi lo scopo della funzione ammissibile è solo appunto verificare l'ammissibilità di un insieme di candidati che formano una soluzione poi c'è la funzione ottimo beh la funzione ottimo fa un po di più di ammissibile verifica se l'insieme dei candidati è effettivamente la cosa migliore da fare ora però io che cosa vi ho appena detto vi ho appena detto che questi algoritmi non sempre producono la soluzione ottima quindi questa funzione ottimo è un po un tentativo di produrre un ottimo ma non sempre produrrà un vero ottimo cioè verifica se la soluzione ottima ma se non è ottima che faccio la butto via beh in alcuni casi come vedremo nel caso dell'algoritmo del resto se non è ottima comunque la prendo come soluzione certo se è ottima allora dico ok questa è la migliore di tutte magari mi fermo anche ma se non è ottima comunque io non mi arrendo questa soluzione la tengo presente nel caso non trovi di meglio e questo mi fa capire che non è detto che si arriva sempre all'ottimo in questo caso la funzione di seleziona è forse la cosa più importante di tutte queste funzioni perché è appunto quella che implementa l'approccio gridi l'approccio gridi grid in inglese significa voloso è goloso una persona golosa è una persona che se si trova davanti dieci cibi diversi sceglie quello più buono per lui per lei quindi che ne so una torta un sacchetto di patatine altre prelibatezze sceglierà quello più buono per lui per lei secondo i suoi gusti quindi la funzione di seleziona implementa l'approccio goloso nel senso che va a individuare tra tutti i candidati non esaminati quindi deve cercare di considerare un'altra tra le possibili soluzioni sul tavolo quella seleziona quella più promettente al momento quindi non è detto che sia la migliore tra tutte è quella che in quel momento per quello che può valutare questa funzione di selezione che non può essere troppo complessa perché se fosse troppo complessa sarebbe essa stessa l'algoritmo di risoluzione è la funzione che in maniera anche un po euristica alcune volte cerca di ottimizzare localmente cioè qual è la cosa migliore da fare adesso in questo momento e se non è la migliore è comunque una cosa buona da fare questa è la funzione seleziona e poi dato che io sto costruendo una soluzione mi serve una funzione obiettivo cioè ma dove voglio arrivare cos'è che vuoi massimizzare e minimizzare per esempio se sto andando da napoli a torino da roma a napoli devo minimizzare la percorrenza in chilometri o devo minimizzare il tempo di percorrenza sono due cose diverse magari che è capitato che questa impostazione nel navigatore a mesi era impostata per minor chilometraggio quindi a volte mi facevo uscire persino dalla superstrada per prendere una brevissima scorciatoia che effettivamente mi accorciava di forse due trecento metri di percorso però non considerava che questo percorso innanzitutto era in altezza perché si elevava passando da un paesino arroccato in qualche montagna ma soprattutto che paesava passava da delle strade di paese quindi per risparmiare 200 metri mi faceva passare dalle strade più insomma più strette e anche più difficili da percorrere tra l'altro questo è un problema che conoscono bene i corrieri camionisti non si contano le storie di camionisti che si sono persi seguendo i navigatori che li hanno portati appunto per minimizzare il tempo non il tempo il per minimizzare la percorrenza chilometrica le hanno portati in strade che non potevano percorrere questo soprattutto i navigatori della vecchia generazione navigatori diciamo di anni fa i navigatori moderni ovviamente passato del tempo sono stati corretti questi problemi non sempre però per la maggior parte delle volte tentano comunque di considerare tanti fattori insieme quindi tempo di percorrenza il chilometraggio l'elevazione il consumo di benzina perché una strada che si eleva e poi scende comunque ci sono delle delle insomma le differenze di altitudine ovviamente produce dei consumi eccetera beh comunque questo rientra tutto nella funzione di obiettivo ok quindi la funzione obiettivo ci dice cosa dobbiamo fare cosa dobbiamo minimizzare o massimizzare per esempio nel caso del navigatore i variabili dei fattori che vi ho appena detto nel caso del distributore del resto infatti oggi capiremo perché vi fregano i soldi le macchinette quello che è da minimizzare è il numero di monete usate cioè il distributore del resto c'ha delle monete dentro e non è che si può mettere lì ad accontentare tutti i clienti usando un numero di monete senza limiti cioè io potrei anche dare un resto fatto tutti di 10 centesimi se il resto devo erogare un resto di 60 centesimi e vabbè c'ho le monete da 10 c'ho tante monete però in particolare ho le monete da 10 e do 6 monete da 10 perché no il cliente contento non contento e ben tanto di tutto il resto e tutto va bene ma non è un approccio intelligente perché significa che il distributore si sta privando di una risorsa la risorsa sono le monete del resto quindi in quel caso noi dobbiamo minimizzare il numero di monete da dare al cliente quindi più monete io tengo più è probabile che poi possa erogare il resto anche ad altri clienti non solo clienti che ciò che ciò di fronte ok quindi mettiamo insieme questi questi ingredienti per definire appunto l'algoritmo di massima gridi è un algoritmo che dato un insieme di candidati per esempio le strade della mappa o per esempio per le monete che ho nel nel distributore deve tirare fuori la soluzione nel caso della mappa la strada più breve nel caso del distributore del resto la le monete appunto da erogare come resto quindi ho un insieme di candidati ci è una soluzione che dovrò restituire però inizialmente questa soluzione è vuota devo inserire in questa soluzione quei candidati che compongono io spero la soluzione ottima ma come vi ho detto potrebbe anche non esserlo allora l'algoritmo è veramente molto semplice vai avanti finché ci sono dei candidati perché se non ci sono candidati ecco questo è un algoritmo molto ignorante non va indietro retroattivamente quindi nel costruire la soluzione anche se si dovesse accorgere che in realtà non se ne accorge però anche se noi umani perché noi guardiamo le cose con una prospettiva molto più ampia anche se noi ci dovessimo accorgere è però quella non è proprio la soluzione migliore ce ne sarebbe stata un'altra migliore non torna indietro l'algoritmo gradi non fa il rewind per andare a rifare tutte le cose altrimenti non sarebbe un algoritmo gradi non sarebbe un algoritmo che compie la scelta migliore localmente ma sarebbe appunto un algoritmo di ottimizzazione globale e quindi non è più gradi è un'altra cosa magari poi ne discutiamo anche che cosa significa un'altra cosa quindi è un algoritmo veramente ignorante finché ci sono candidati da estrarre e comporre per trovare una soluzione e finché non è ottima la soluzione che significa che se tu per caso hai trovato che la soluzione ottima ammesso tu abbia una funzione non ho detto che tu ce l'abbia ammesso che tu abbia una funzione che ti dice o questa soluzione meglio di così non potevi fare beh se l'hai trovata non c'è motivo di andare avanti tentando testando altre soluzioni quindi vai avanti secca se trovi una soluzione ottima te fermi e se non hai più candidati ti devi fermare e cosa devi fare a un'interazione di questo ciclo di ottimizzazione locale devi selezionare fare la scelta migliore localmente quindi questo è l'algoritmo gradi sta tutto in questa riga selezione candidato più promettente da metterlo in una variabile temporanea perché temporanea perché adesso non sai se quel candidato anche che promettente non è detto che sia un candidato che rende la soluzione per esempio ammissibile ovvero adesso toglie questo candidato dall'insieme dei candidati e se la soluzione è ammissibile cioè la soluzione che avevi prima di questa interazione più il candidato che adesso hai appena estratto in maniera promettente se è ammissibile allora la soluzione del prossimo passo sarà la soluzione del precedente passo più il candidato che è appena selezionato altrimenti altrimenti no altrimenti la soluzione rimane quella che era prima il candidato però l'hai fatto fuori perché appunto questi candidati vengono presi estratti messi dentro la soluzione funzionano non funzionano bene allora le butto via capite perché ignorante perché uno dice di nuovo col senno di poi è ma che ne sapevi magari adesso l'ho buttato via però dopo ti accorgi che quello forse non dovrei buttarlo via ma questo discorso che non fanno gli algoritmi credi noi li facciamo certo li possiamo anche far fare una macchina però diventano algoritmi molto complessi e io ho visto studenti e cimentarsi con questi algoritmi perché volevano a tutti i costi ottimizzare proprio trovare l'ottimo globale quindi cosa andavano a fare per esempio trovare tutte le possibili nel caso dell'agoritmo del resto per esempio potrebbero un algoritmo che cerca di ottimizzare davvero il resto dovrebbe andare a fare tutte le possibili combinazioni e tra tutte le possibili combinazioni che danno un resto esatto selezionare quella che da il minore numero di monete a parlare è facile e però nel momento in cui uno lo implementa pure non è difficile genera tutte le combinazioni e poi tutte queste combinazioni che soddisfano il criterio di ottimità cioè che sono più che ottimità che sono dei resti esatti scegli quella che restituisce il minore numero di monete dove sta l'inghippo l'inghippo sta appunto nella complessità computazionale cioè l'ottimizzazione globale purtroppo non sembra possibile non è possibile nel distributore del resto se c'ho io mille monete mille no se c'ho 200 monete nel distributore andate voi a fare tutte le combinazioni non di coppie anche di triple di quadruple di quintuple andate a fare voi tutte le combinazioni e vi accorgerete giocando con i coefficienti binomiali che è un numero esplosivo quindi già solo generarle richiederebbe un sacco di tempo poi andare a verificare pure richiederebbe tempo e quindi uno vede sta macchinetta che sto calcolando il resto torna dopo qualche ora ecco ecco questo del resto no ovviamente non si può fare quindi a volte l'ottimo teoricamente esiste e sappiamo anche come raggiungerlo il codice non è complicato il problema è la complessità computazionale quindi ci dobbiamo accontentare di questo cioè pia sti candidati se sono buoni rimetti se sono ammissibili tieni altrimenti di butti e vai avanti finché non hai finito quello che ottieni alla fine di questo approccio potrebbe essere un ottimo e se un ottimo sei contentissimo e dici ok ti sto dando la soluzione ottima ma se non è ottimo io questa frase che è presa dal libro vorrei un attimo discuterla con voi cioè non è detto dipende dai contesti ci sono contesti in cui io voglio l'ottimo e quindi se non è ottimo dico non ho trovato la soluzione se invece mi posso accontentare io questa soluzione comunque è meglio restituirla vediamo adesso un esempio che è il distributore del resto esempio distributore del resto quindi supponiamo che adesso noi per semplicità non possiamo fare un distributore con 200 monete se no come facciamo adesso adesso stiamo per fare una simulazione grafica di quello che accade dentro il distributore quindi supponiamo che abbia a disposizione nel suo serbatoio un certo quantitativo di monete poche monete perché dobbiamo fare una simulazione da ma da 12 non si usano più le monete da da uno quindi fatemi cancellare questo è prima che ci sono state abolite le monete da 1 a 2 centesimi soprattutto nei distributori quindi supponiamo che abbia distribuzione che abbia a disposizione nel suo serbatoio monete da 5 10 e 50 centesimi 5 10 20 e 50 centesimi di euro supponiamo che questo distributore deve erogare un resto r il resto r o è calcolato in maniera banale quello che è inserito meno quello che costano le cose che ha comprato quindi niente da dire su questo l'insieme dei candidati possibili sono le monete quindi quelle sono io queste monete le posso comporre per formare una possibile soluzione un possibile resto da erogare al cliente la funzione ammissibile deve restituire true o falso se la soluzione appunto è una soluzione beh nel caso del resto una soluzione è ammissibile se il valore delle monete della soluzione non super il resto cioè noi non siamo dei benefattori il distributore del resto non può erogare un resto superiore a quello nominale cioè il resto il reale che eroga non può essere superiore a quello calcolato altrimenti sta facendo un regalo al cliente però guardate che la soluzione ammissibile non dice che deve essere esattamente uguale la soluzione non deve essere uguale al resto perché chi fa il distributore contempla qui appunto ci siamo arrivati contempla il fatto che vi possa fregare i soldi perché perché sicuramente meglio fregarli a voi che fregarli al distributore quindi è meglio che una soluzione ammissibile se non è superiore al resto ma può essere inferiore quindi io posso erogare un numero un resto minore di quello che in realtà è mostrato nel display con la scusa che non c'è abbastanza monete scusa e vabbè non sono riuscito a regarti questo resto e quindi a voglia sbattere non ve lo erro che il resto la funzione ottimo nel caso del distributore invece beh ottimo significa che proprio meglio di così non si può fare in questo caso si può calcolare non in tutti i problemi ma in questo sì se il valore delle monete della soluzione è uguale a quello del resto beh è la cosa migliore da fare cioè esattamente è un resto ottimo quindi va bene ecco questo è l'algoritmo greedy cosa fa la funzione seleziona nei distributori che stanno alle macchinette che stanno negli androni nei corridoi della nostra università non solo dei nostri ma di tutti i distributori deve fare la scelta migliore localmente non può fare tutte le combinazioni se no ci metterebbe una vita e allora che fa scegli la moneta di valore più grande rimasta tra quelle ancora da considerare ovvero ordina le monete che c'ha in senso decrescente dalla più grande alla più piccola e perché sceglierà più grande perché la moneta più grande di valore più alto è una però è quella di valore più grande quindi io con una sola moneta ricordate l'obiettivo è quello di restituire il minore numero possibile di monete con una sola moneta sto restituendo una buona parte una buona fetta del resto e quindi l'obiettivo mio di distributore calarmela con poche monete ma queste poche monete dovranno per forza essere di taglio alto altrimenti come faccio io con poche monete da un resto di un euro e 50 non posso certo partire dalle monete da 10 centesimi altrimenti ne darei 15 parto invece da monete da 50 centesimi e quindi per esempio se ne ho 3 50 più 50 più 50 con tre monete ho erogato il resto di una 50 la funzione valore che una funzione in questo caso di utilità che ci serve per confrontare la soluzione con le funzioni ammissibili ottimo restituisce semplicemente la somma delle monete presenti nella soluzione con il valore una funzione di utilità che in questo caso ci dà il valore di una soluzione quanto vale questa soluzione vale la somma delle monete questo valore si può è ammissibile si se minore del resto è ottimo se è uguale al resto eccetera questo è il funzionamento vediamo però l'algoritmo quindi questo algoritmo che qua è effettivamente un algoritmo greedy perché c'è questa c'è questo ciclo che va a testare tutti i candidati e ogni candidato è selezionato con una procedura di selezione la moneta di valore più alto è la procedura di selezione e poi si testa questo testa la ammissibilità della della soluzione e poi si aggiunge questa cosa della soluzione se l'ottimalità è stata raggiunta si restituisce come resta esatto altrimenti come resto parziale quindi non è sempre prestisco errore ok vediamolo con più calma quindi algoritmo del resto implementato nei distributori l'input è il resto da dare la soluzione è il resto effettivamente erogato come una lista di monete quindi ho una lista di monete soluzione inizialmente vuota o una lista di monete contenute nel serbatoio i candidati e finché ci sono candidati finché ci sono monete e finché questo è l'ottimo no finché il valore della soluzione per caso se proprio uguale al resto io mi fermo quindi se ho raggiunto l'ottimo oppure non ci sono più candidati io mi fermo altrimenti vado avanti vado avanti che significa algoritmo greedy prendi la scelta più promettente fai la scelta più promettente cioè prendi la moneta di valore più elevato tra i candidati che ti sono rimasti togli questa moneta d'ora in poi questa moneta la stai considerando stavolta non la considererai mai più quindi non si può tornare indietro nel tempo e ripensarci se è ammissibile la soluzione cioè la soluzione più la moneta che hai messo rispetta ancora l'ammissibilità cioè è minore del resto beh se lo rispetta allora la nostra soluzione si aumenta con questa nuova moneta altrimenti altrimenti no si va avanti finché di fatto non si sovriscono i candidati o non si restituisce un resto esatto se il resto è esatto o resto esatto se è parziale e parziale vediamo alcuni esempi di esecuzione supponiamo che il nostro distributore sia accorto di monete quindi ha soltanto tre monete 50 50 e 20 supponiamo che il resto del rogare sia 70 primo passo di iterazione intanto vediamo che i candidati visto che dobbiamo di volta in volta estrarre più grande ci conviene ordinarli in senso decrescente quindi le monete le ordiniamo in senso decrescente prendiamo il più grande il più grande e 50 qui lo estraiamo dai candidati quindi adesso questa è una specie di se questa fosse una lista sarebbe un pop front cioè prendi l'elemento di testa proprio toglilo dei candidati e consideralo considerano parte della soluzione è una soluzione questa ammissibile beh sì è minore del resto quindi quindi va bene quindi andiamo avanti non è ottimo ovviamente quindi andiamo avanti prendi adesso un'altra moneta di nuovo la più grande pop front estraila metti qui rimane qui soltanto 20 adesso questo questo candidato unito alla soluzione è ammissibile cioè una soluzione composta da 50 e altri 50 centesimi è una soluzione ovviamente no quindi e quindi niente il candidato si butta via la moneta l'abbiamo già estratta si va avanti adesso si estrae 20 non c'è più niente 20 rispetto in aggiunta 50 non solo è una soluzione ma addirittura è una soluzione ottima quindi stiamo uscendo dal ciclo in questo caso sono verificate entrambe le situazioni non ho più candidati li ho finiti e inoltre ho trovato un ottimo quindi e quindi è andato tutto bene ma non va sempre tutto bene supponiamo che il resto da erogare sia 55 purtroppo monete da 50 50 e 20 quindi ragazzi succede quello che è successo prima però inserisco 50 50 prova inserire un altro 50 supero 55 quindi no inserisco 20 supero 55 quindi no e quindi niente il resto non è esatto però aveva una scusante la macchina in questo caso la moneta da 5 centesimi non ce l'aveva e quindi non lo so se ve lo dice display probabilmente no però lui internamente lo sa la moneta non ce l'aveva vi ha dato un resto 50 minore di 55 vi ha fregato 5 centesimi però non l'ha fatto in maniera diciamo col dolo non ce l'aveva prova la moneta quindi che colpa ne ha e quindi assolviamo il distributore e invece no perché in realtà ci sono casi in cui il distributore non vi eroga il resto esatto ma avrebbe potuto e quindi questo ci fa un po arrabbiare vediamo per esempio questo questo caso supponiamo che il resto da erogare sia 60 centesimi e abbiamo monete 50 20 20 20 20 ora noi esseri umani probabilmente dal nostro della nostra intelligenza che insomma vediamo io praticamente come anche voi vedo già la soluzione ottima beh dobbiamo erogare un resto da 60 supponiamo di essere il cassiere siamo alla cassa ne so di una di un supermercato di una macelleria e beh do tre monete da venti il cliente è contento e siamo tutti contenti beh non siamo tutti contenti il distributore non è contento perché sta erogando tre monete per dare un resto e soprattutto l'algoritmo non è così che funziona l'algoritmo non guarda dall'alto tutte le monete facendone tutte le combinazioni per ottimizzare globalmente il problema non è così ma l'algoritmo è quello di prima quindi le ordiniamo in senso decrescente prendiamo la più grande che 50 50 rappresenta una soluzione insieme a insieme vuoto quindi 50 è minore uguale del resto sì e questo l'errore l'errore tra virgolette c'è d'ora in poi questo 50 dentro questa soluzione ci sta nessuno toglie e quindi vedete non possiamo più tornare indietro e questo 54 ma ce lo portiamo dietro che significa che adesso andiamo a vedere se prendendo 20 e la soluzione no perché sarebbe 70 super il resto no di nuovo no di nuovo sono finite le monete la soluzione non è ottima nessun problema restituisco il resto come resto non esatto il cliente non è contento perché gli ha fregato 10 centesimi la macchina dice guarda io non ce l'ho fatta proprio darti sto resto in realtà ce l'aveva le monete ma l'algoritmo credi ragiona minimizzando il numero di monete quindi e soprattutto ragiona con un ottimo locale quindi non aveva idea che combinando queste tre avrebbe potuto erogare il resto esatto quindi è partita dalla prima più grande e poi una volta che ci metti 50 è finita se non hai 10 centesimi hai solo monete da venti e troppo tardi non puoi più erogare un resto esatto quindi questa è la lezione da portare a casa oggi che un algoritmo gredi da momento che compie la scelta ottima localmente potrebbe fallire o attenzione non sto dicendo che tutti gli algoritmi gredi solo perché si chiamano algoritmi gredi falliranno anzi vedremo in questo corso un algoritmo gredi che è da extra che non fallisce da extra e ottimo globale quindi in da extra la scelta questa qua che noi diciamo seleziona questa qua questa funzione qua in da extra sarà matematicamente dimostrabile ve lo dimostrerò non la scelta migliore localmente ma la scelta migliore globalmente se seleziona restituisce la scelta ottima globale tutto l'algoritmo gredi diventa un algoritmo ottimo globale che quindi quindi non fallisce allora perché il camionista si è ritrovato a batti la pesca beh perché quello il problema di appunto di trovare percorso più breve è vero che teoricamente da extra lo risolve ma lo risolverebbe in giorni se non settimane di elaborazione e quindi è una versione quella davvero eseguita dal navigatore non è da extra ma una versione un po più appunto questa funzione qui non è proprio quella di da extra ma una versione un po più rilassata quindi non è più ottimo globale ottimo locale e a volte quindi può sbagliare perché questo mi consente di arrivare poi alla prossima applicazione una delle tante che l'intelligenza artificiale di learning perché possono fallire gli algoritmi perché non sempre trovano l'ottimo globale beh allora facciamo quest'altro esempio questo altra similitudine supponiamo di trovarci in questo punto noi siamo qua siamo in a ok l'obiettivo è quello di di trovare la vetta più alta ovvero diciamo in termini matematici visto che siamo ingegneri vogliamo massimizzare una funzione va bene trovare il massimo di una funzione supponiamo di quindi che questa sia una funzione a una variabile una funzione reale e dobbiamo trovare il massimo voglio vorremmo trovare il massimo globale noi siamo in questo punto e volete perché siamo in questo punto è che ne so abbiamo iniziato a caso ci troviamo in quel punto una possibile strategia per trovare le vette in qualunque punto noi partiamo in uno spazio che in questo caso è unidimensionale ma potrebbe anche essere uno spazio a più dimensioni è quello di dobbiamo decidere in questo caso in quale direzione andare ora questo un caso monodimensionale quindi le direzioni sono soltanto due sinistra o destra ora noi esseri umani abbiamo di big picture cioè vediamo tutto e quindi ovviamente diciamo che deve andare a sinistra ma se io ingrandissi nato po e dovremmo ingrandire proprio tanto scusate ma non c'ho lo zoom adatto quindi noi possiamo vedere tutto il mondo perché altrimenti quella sarebbe un'ottimizzazione globale ok noi possiamo vedere solo quello che sta nelle immediate vicinanze di a quindi quello che noi vediamo è questo questo è il punto di vista corretto quando parliamo di ottimizzazione locale beh voi dove andreste adesso non abbiamo più la visione di tutto il mondo abbiamo solo una visione del vicinato andiamo nella direzione che massimizza la derivata che in caso monodimensionale è la derivata quando aggiungiamo più dimensioni il vettore delle derivate ricordate si chiama gradiente quindi se dobbiamo massimizzare una funzione più variabili e noi ci troviamo in un punto cosa facciamo scegliamo la direzione che massimizza il gradiente e quella noi speriamo che ci porti verso un massimo però non è detto perché magari 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 ovviamente questo ha una pendenza maggiore però una pendenza che rimane costante questo invece è una pendenza che sale esponenzialmente e poi ci porta ad un punto più elevato quindi questo è un esempio di come fare la scelta migliore localmente localmente cioè valutando solo quello che c'è nei dintorni potrebbe portare ad una subottimo in questo caso questo non è un massimo locale è un massimo locale ma non quello globale che invece sta da un'altra parte voi dite che ci azzeca questo col deep learning cioè fatto l'esempio di massimizzazione di una funzione bene adesso non posso tirarla troppo per le lunghe queste sono slide prese dal corso di deep learning della magistrale e a un certo punto in quel corso io dico che le sistemi di apprendimento profondo deep learning che ormai si sente parlare in giro vanno tanto di moda sono delle reti neurali ora non sto spiegarvi cos'è una rete neurale però posso dirti che una rete neurale che qui vediamo è semplificata con questi pallini connessi tratto bravo è connessi da questi questi archi una rete neurale si può anzi è assimilabile ad una funzione non lineare una funzione non lineare però di tantissimi parametri stiamo parlando di reti che hanno milioni se non miliardi di variabili miliardi quindi rispetto a questa funzioncina a due variabili do stai rispetto a questa funzioncina a 2 no a una variabile scusate la scisse le funzioni che si vuole minimizzare massimizzare nel deep learning hanno miliardi di variabili ok e che funzione è la funzione di cui stiamo parlando una funzione chiamata funzione di perdita o di errore cioè una funzione che confronta quello che l'output desiderato che ne so io voglio riconoscere le facce in un'immagine o voglio fare anche cose molto più complicate come quelle che sto per farvi vedere però questo è quello che voglio e poi c'è l'output reale cioè questa sistema prende in input qualcosa produce in output qualcosa quell'output non è uguale a quello che io voglio e di planning sta tutto qua confrontare quello che vorresti quello che hai calcolarne la differenza e questo è l'errore l'errore è una funzione è una funzione di tutti i parametri della rete la rete a miliardi di parametri parametri che si possono cambiare sono dei gradi di libertà cambiando questi parametri in maniera opportuna cioè con un algoritmo matematico che è praticamente lo stesso che vi ho appena detto poco fa cioè di seguire il gradiente ora ve lo spiego si possono cambiare questi parametri appunto per ridurre questa differenza ridurla appunto fino al punto in cui quello che io voglio è esattamente quello che ho e allora la rete fa quello che io volevo fa le cose più strane che fra poco vi farò vedere le cose anche più più carine più fighe a dir si voglia e come funziona tutto questo appunto funziona tramite un processo di di scegliere vediamo se trovo la già qua ho detto che è una funzione di miliardi di variabili però noi per visualizzarla non ce la facciamo ovviamente quindi dobbiamo fare dei casi semplici e questo è un caso in cui la funzione a tre variabili no due variabili scusate quindi una funzione reale a due variabili ci serve uno spazio tridimensionale per poterla vedere quindi questa è la funzione per esempio una funzione di perdita ora siccome la funzione di perdita di errore quello che noi vogliamo non vogliamo massimizzare vogliamo minimizzare questo errore la differenza tra quello che voglio quello che ho beh se dobbiamo minimizzare dobbiamo trovare il minimo globale e ragazzi guardate questo è il problema queste palline che si fanno cadere rappresentano l'approccio matematico di seguire la strada in questo caso non con la pendenza in alto più grande ma con la pendenza in basso più grande quindi la strada più scoscesa e il problema che questo approccio un approccio di minimo locale di scusate un approccio greedy di ottimizzazione locale perché se le palline partono in punti fortunati magari seguiranno la strada che li porterà a questo minimo globale altre strade invece potrebbero provare portarli a un minimo che invece non è globale ma è locale questa cosa la vediamo magari anche meglio in quest'altra situazione in cui ho una funzione di perdita un po diciamo ha delle protuberanze a delle oscillazioni e può succedere che addirittura con questo approccio di nuovo alcune palline vanno a finire nel minimo globale e altre invece rimangono intrappolate in quelli che sono dei dei flessi intermedi che si trovano lungo il percorso ovvero dei minimi locali e è la stessa cosa il problema che vi ho appena presentato nel caso di algoritmo gredi del distributore del resto cioè che non facendo la scelta migliore a volte ti blocchi oppure arrivi ad una soluzione non ottima avviene anche nel deep learning ed è questo uno anzi dei problemi che per decine di anni si è tentato di risolvere in che maniera per esempio quando la pallina si blocca si dà una botta solo che detta così sembra molto rosa lo è ma è proprio quello che succede in questi algoritmi che noi chiamiamo di intelligenza artificiale ma realtà sono delle palline che rotolano in uno spazio ovviamente molto più grande di questo a miliardi di dimensioni e quando si blocca noi diamo una spinta per vedere se c'è qualche altro minimo nei dintorni è un po come dire abbiamo trovato un massimo locale dai una spintarella veri se scendendo magari risale il finale di un'altra montagna più grande una sorta di esplorazione ovviamente l'esplorazione non può essere esaustiva e non posso di nuovo ottimizzare globalmente funzioni non lineari di miliardi di variabili trovamelo tu il massimo globale di una funzione o il minimo in questo caso è il minimo perché dobbiamo minimizzare l'errore non si può fare proprio non si può computazionalmente fare ci si deve accontentare appunto dei minimi locali tramite algoritmi gradi che appunto l'algoritmo gradi del deep learning sceglie la direzione che massimizza il gradiente cioè in realtà minimizza dovete minimizzare appunto massimizzare la pendenza negativa del gradiente questo è quello che fanno questi algoritmi e qual è il risultato quindi un algoritmo gradi che uno dice vabbè a questo gradi e subottimo riesce a fare le cose più particolari per esempio ormai questo un po tutti lo sanno le macchine che si guidano da sole si basano su sistemi di deep learning che identificano in questo caso le macchine le persone e quindi c'è la tesla che si guida da sola si trova una macchina si ferma si trova un petone che attraversa si ferma poi riparte riconosce la strada eccetera eccetera queste sono cose che più o meno si sanno altre cose che forse non si sanno è che questi sistemi di deep learning in realtà mentre sono nati all'inizio più che altro per le immagini riconoscimento di immagini adesso si usano per tutto cioè davvero ragazzi io voglio un sistema che fa questa cosa però a livello di programmazione non saprei proprio come implementarlo lo faccio fare un sistema di deep learning che appunto minimizza la differenza tra quello che voglio e quello che il sistema produce all'inizio il sistema produce rumore puro cioè ovviamente se io faccio una rete neurale che appunto non sto io a programmarla questa rete neurale la rete neurale sbarella all'inizio però siccome c'è tutti questi parametri tutte queste manopoline che in automatico vengono aggiustate per minimizzare l'errore allora questa rete si auto programma quindi sto dicendo che l'approccio l'approccio di programmazione dei sistemi moderni complessi a volte non è più il programmatore ma è una rete neurale che si autoprogramma per raggiungere l'obiettivo sfruttando algoritmi gredi quindi possiamo dire che gli algoritmi gredi sono quelli che in questo momento stanno mandando avanti l'intelligenza artificiale nonostante siano algoritmi del tutto ignoranti sarebbe molto bello fare un algoritmo di programmazione dinamica per l'intelligenza artificiale e ci sono non dico che non ci sono ma quando le cose diventano complesse il programmatore proprio non ci riesce a a pensare ad un algoritmo ottimale e allora si arrende più che si arrende sa che ormai funziona molto bene usa una rete neurale per fare quello che anticamente veniva fatto dei programmatori con con tanti anni di ricerca anche io nella mia parte dottorato non c'era di planning e anche io mi mettevo a pensare che posso fare che non posso fare programmava e programmava programmava oggigiorno i sistemi di intelligenza artificiale si autoprogrammano e fanno le cose più strane per esempio questo mi hanno consegnato i ragazzi del deep learning faccio progetti a gruppi anche lì mi hanno consegnato venerdì non è questo quello che mi hanno consegnato però loro questo proprio hanno fatto quindi mi aspetto risultato simile perché loro mi hanno detto che funziona benissimo io ho dato il progetto di super mario un super mario tipo quello che avete anche voi nel codice soltanto il primo livello alcuni componenti dovevano implementare l'intelligenza artificiale ovvero mario che da solo gioca e vince il livello cioè proprio da solo evita i nemici eccetera ovviamente utilizzando questo sistema di deep learning con algoritmi gradi e funziona allora mi hanno detto che funziona devo andare a vedere ma se dicono che funziona funzionerà e quindi ho trovato in rate una cosa simile l'hanno fatto anche altre persone questo che vedete non è giocato da un essere umano ma è giocato magari non lo vedete adesso col frame rate giusto perché c'è google meet però qualche frame lo state vedendo è mario che si sta facendo tutto il livello saltando evitando nemici ma non è un essere umano quello che lo sta comandando è una macchina e vabbè uno dice sì ok carino molto carino è una rete neurale tra l'altro è molto carino però insomma non è che ci ha impressionato più di tanto bene i quattro minuti che rimangono invece di impressionerò perché per esempio questa che vi mostro questa che vedete in questo momento è realizzata da nvidia che sta facendo un sacco di ricerca su questo metto in pausa altrimenti non capite quello che vedete e potete pensarlo come gta 10 oppure matrix la prima matrix ovvero è un mondo fatto di palazzi di macchine di strade di alberi di persone anche che non esiste e che non è mai stato programmato da nessuno cioè quello che state per vedere questa animazione tridimensionale che sembra un gt sembra un videogioco ben fatto con delle belle texture dei bei poligoni non c'è nessun programmatore che lo ha implementato è semplicemente stato generato da un sistema di deep learning quindi è la prima vera matrix cioè un mondo virtuale creato da una macchina e non dall'uomo questo è il risultato questo è dato un risultato di tre anni fa adesso è molto meglio quindi vedete c'è visto per un attimo un autobus che girava è possibile anche insomma esplorare questo mondo ma è un mondo che non esiste proprio non c'è nessun nessuna città al mondo che è fatta così ovviamente ci si somigliano le città con i grattacieli si somigliano un po tutte ma non esistono città fatta così è pura immaginazione immaginazione generazione della macchina ecco questo forse potrebbe avervi impressionato se volete impressionare di più c'è un canale bellissimo si chiama two minute papers su youtube e in due minuti tentano di spiegarvi tutta una serie di applicazioni recenti del deep learning ci sta anche il di aging ragazzi face up per intenderci è fatto con il deep learning face up che ci consente di invecchiare, ingiovanire, cambiare di sesso insomma mettete la vostra foto in face up e fate le cose più disparate e c'è qualcuno che ha fatto il pacman e voi dite vabbè tanto lo facciamo anche noi il pacman dove sta? pacman, pacman sempre Nvidia guarda caso hanno, è incredibile ragazzi, hanno creato il pacman senza programmarlo mi spiego hanno fatto vedere alla macchina di deep learning delle partite di pacman cioè dei video, delle registrazioni la macchina ha autoprogrammatosi il gioco del pacman cioè quello che noi facciamo con tanta fatica in queste lezioni facciamo solo una piccola parte questi sistemi hanno programmato il pacman tramite una rete neurale vediamo un po' se si va bene tutta la parte bla 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 quello che vedete a destra è pacman artificialmente programmato cioè è un gioco giocabile, ci si può giocare con i comandi ma il corice sorgente non ce l'ha nessuno è una rete neurale, sta solo la rete neurale come ha fatto eccolo qua ovviamente la risoluzione non è proprio eccellente perché chiamo ancora nei primi passi magari le palline non scomparino del tutto rimane qualche traccia però il gioco funziona vedete, pacman ha preso la powerball è diventato, può mangiare i fantasmini i fantasmini hanno lampeggiato è apparso qualcosa di strano lì ok, il risultato non è ancora perfetto ma ragazzi stiamo parlando di un videogioco programmato da una macchina soltanto avendo guardato un videogioco esistente e quindi qualcuno si è spinto persino oltre ha detto ma sai che c'è? creiamo il videogioco del tennis facendo guardare la macchina il gioco del tennis il gioco intendo le partite reali quindi stesso approccio anziché mostrare il gioco del pacman viene mostrato il gioco del tennis e quello che si ottiene ragazzi se me lo fanno vedere sì, questa è la fattura nel momento in cui abbiamo il risultato ecco, questo è il risultato quello che vedete ragazzi non è un video registrato ma è il gioco del tennis programmato dalla macchina utilizzando come texture utilizzando le immagini reali prese da partite reali quindi ragazzi i videogiochi del futuro non saranno programmati dagli esseri umani con decine di anni di sviluppo decine no però sicuramente tanti anni di sviluppo rendering poligonale eliminazione eccetera ma sta crescendo si sta davvero ragazzi facendo strada la programmazione l'autoprogrammazione dei videogiochi cioè io voglio implementare il gioco di qualcosa che esiste nella realtà quindi ho le immagini servono i dati deep learning si alimenta di dati mostro alla macchina che ne so mille ore di registrati di partite di tennis realmente giocate il sistema di deep learning capisce in qualche modo lo so che sembra strano come funziona il gioco e anche cosa mostrare a video e poi voi ci giocate e voi riuscite a fare delle cose che nella realtà magari non ci sono cioè quello che vedete a video è una partita che non è mai stata davvero giocata la state giocando voi ragazzi se vi interessano queste cose ovviamente nella magistrale ne parleremo ma in questo sito 2 minute papers in questo canale trovate le cose più strane finisco qui oggi abbiamo sforato di un minuto